Sono Giulia, ho la sclerosi multipla, gioco a palla a volo, ma ora inizio a giocare a sitting. Che è lo sport palla a volo che gioca a seduti. Penso che sia una bellissima esperienza che tutti dovrebbero provare a fare. Io sto provando, ho provato, mi diverto tantissimo, mi piace stare con queste ragazze e mi piace condividere la palla a volo da seduta. Questo evento, grazie alla Fondazione Vodafone Italia, ci permette veramente di far conoscere e avvicinare le persone al mondo dello sport e della disabilità. Che siano disabili, che non siano disabili, l'importante è partecipare e conoscere questa nuova disciplina. Ho risposto subito positivamente, anzi, purtroppo non ho potuto partecipare a altri due eventi che sono stati fatti durante l'estate e sono sta felice di esserci oggi. Stiamo promuovendo e dando il nostro massimo, oltre sul campo, ma anche per far conoscere questo sport. E grazie all'unione da parte nostra nel nostro piccolo e grazie a questi eventi possiamo veramente trasmettere tanto ai giovani, ai meno giovani, a tutti. Ci emoziona, dà forza e supera ancora di più i limiti. Ci aiuta le ragazze che lo giocano e fuori a capire che si possono veramente superare tutti i limiti. Non ci sono limiti. Veramente siamo amiche e ci mettiamo il cuore. Quindi mi auguro di continuare con questo gruppo fantastico. E poi il lavoro viene di per sé già partendo da questo. Quando c'è l'unione, la passione e la concentrazione giusta come squadra, si lavora meglio e quindi si può arrivare meglio ai risultati. Non mi auguro niente più che continuare a essere una squadra fantastica.